Grecia, tu quelle magliette proprio non le hai digerite, vero? Eh? Non le hai accettate? No, perché non è verrà. Se fosse verrà, dico, ok, sì, sono così. Però non è così. Cerco di stare lo più nel gruppo, di fare la cosa lo meglio possibile, che se c'è un problema, la soluziono nel momento. Però l'etizia dice, per esempio, che tu parli, 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 non ascolti nessuno e per te esiste solo. Quello che dici tu è quello che pensa tu. Eh, se è la verità, sì. Se è la verità. Ah, questa è la verità. Sì, eh, sì. Perché me defendo. La verità la defendo. Se è una cosa che davvero, ascolto. Però se è una cosa che è bugia, me defendo come una leona. Perché non voglio, non voglio che si capisce male. Ma tu, oltre ad essere leona, sei anche un po' vulpa, un po' furba oppure no? Che è questo? Vulpa. Però che significa furba? Vulpa, vulpa, vulpe, vulpe, furba, furba, furba. Ah, molto intelligente. No, sei una persona che pensa davvero, però non sta pensando, voglio fare questo per quello. No, è il momento della verità. De la verità. Che è verità, sì. Che è verità, sì. Che è verità, sì. Che è verità, sì.